Sì, siamo rientrati subito cattivi, siamo andati bene tutta settimana perché vogliamo riniziare sabato con un'ottima prestazione dopo lo scivolone come detto di sabato e ripartire subito alla grande con un'ottima prestazione. Ci sono state due trasferte in cui Lentella probabilmente ha raccolto meno di quanto ha meritato, forse sabato è il momento di riprendersi di ciò che si è lasciato per strada. Sì, abbiamo fatto l'ultimo trasferto molto bene, con carattere, con squadra, con un grande ritmo perché abbiamo trovato 180 minuti di ritmo importante e ora sabato con la cattiveria giusta e col piglio adeguato arriviamo a Perugia per prendere punti. Sono arrivati ragazzi nuovi in difesa come Filippini, Pecorini, come giudichi i loro innesti? Sono innesti importanti dove sono entrati subito in sintonia con tutta la squadra, ora stiamo lavorando in campo per amalgamare ancora di più questa sintonia e giorno dopo giorno loro si trovano sempre meglio nel gruppo. A livello personale che momento stai vivendo, cosa senti di dare ancora di più al gruppo in questo momento? A livello personale io cerco sempre di lavorare e migliorarmi e spero di alzare l'asticella in questi ultimi cinque mesi per dare tutto ed aiutare la squadra a fare ancora meglio.